Sortino, violenta lite, 35enne, distrugge mobili e terrorizza familiari, arrestato. I carabinieri della stazione di Sortino nella serata di ieri sono intervenuti presso l'abitazione di un anziano dove il nipote, un 35enne del luogo, dopo aver inveito nei confronti dei familiari ha iniziato a distruggere mobili e su pellettile dell'abitazione dove vive con i parenti. La furia dell'uomo era scaturita da una precedente discussione che egli aveva avuto poco prima con la sua ex convivente che gli impediva di entrare nell'abitazione dove la donna vive con la figlia. L'uomo infatti aveva cercato di introdursi in casa danneggiando anche la porta di ingresso ma non riusciva nell'intento grazie all'intervento di un familiare. Lo stato d'Ira proseguiva a casa dell'uomo dove questi terrorizzava i presenti distruggendo mobili e quant'altro presenti nell'abitazione. Solo grazie all'intervento dei militari della stazione carabinieri nel frattempo intervenuti l'uomo veniva bloccato e condotto in caserma. L'arrestato dopo le formalità di rite è stato tradotto presso la casa circondaniale di Capadonna a disposizione dell'autorità giudiziaria.